Maury fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro l'Unic per il vantaggio della Lazio. Maury fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro l'Unic per il vantaggio della Lazio. Fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone Lobons e poi mette dentro l'Unic per il vantaggio della Lazio.